Benvenuto in Passpartout. In questo corso, vedremo insieme le funzionalità integrate tra Business Pass ed il programma Business Pass Gestione Paghe. Con questo programma, elabori le buste paga dei collaboratori delle aziende clienti, e del tuo studio. Generi poi dei file, che potrai importare in Passpartout, per completare la gestione. Nel dettaglio vedremo, l'import dei riepiloghi per la contabilità. L'import dei tributi per il versamento con F24 dei contributi sul lavoro. L'import delle parcelle generate da Gestione Paghe. L'import dei dati per il modello 770. Passpartout Gestione Paghe, produce un file di riepilogo, che ti permette di generare le scritture in prima nota dei cedolini mensili, sia per la parte legata alla retribuzione, che a quella legata alla contribuzione. Nel programma Gestione Paghe, è necessario generare il file, fileconta.txt, che verrà utilizzato per l'import in Passpartout. Prima di generare il file è necessario eseguire su Gestione Paghe, la correlazione fra i conti del programma Paghe, con quelli di Passpartout. Ma se utilizzi il piano dei conti riservato per le aziende, questa correlazione è già preimpostata. Il file fileconta.txt è multiaziendale e all'import genererà le scritture, in tutte le aziende elaborate. Per attivare la funzione di import, deve abilitare il parametro contabile, Azienda Paghe. Questo parametro, attiva la funzione, Servizi, Trasferimento Archivi, Caricamento Movimenti Paghe. Poiché l'importazione è multiaziendale, è sufficiente abilitare il parametro in una sola azienda dell'installazione, ad esempio l'Azienda dello Studio oppure la STD. Da questa funzione, esegui l'importazione del file fileconta.txt, generato dal programma Gestione Paghe. La videata principale è divisa in due sezioni. Nella prima, devi indicare la directory in cui si trova il file generato dal programma Paghe, il periodo che vuoi elaborare, e per quali aziende. Puoi elaborare tutto l'anno di tutte le aziende, la procedura inserirà le registrazioni, nel mese di competenza dei cedolini. Nella seconda sezione, devi invece indicare come vuoi che venga generata la scrittura in prima nota. Devi indicare in quale giorno del mese deve essere eseguita la registrazione. Imposta 31, per averla l'ultimo giorno di ogni mese. Puoi decidere, se avere registrazioni distinte per ogni tipologia di addebito, oppure se è raggruppare tutto, in un'unica registrazione. Conferma l'elaborazione, al termine vedrà il riepilogo delle operazioni eseguite. Quando viene effettuato l'import del file in definitivo, in revisione prima nota è possibile visualizzare le registrazioni effettuate dalla procedura. Con il programma Gestione Paghe, puoi produrre due tipologie di file. Entrambi contengono i tributi da versare, derivanti dalla gestione del personale, e possono essere importati in Passpartout, per il successivo invio. Entrambi i file prodotti, possono essere aziendali, oppure multiaziendali. In questo caso, elaborando dall'azienda STD, sarà possibile generare le deleghe, per tutte le aziende, gestite con il programma Paghe. In questo video, vedremo questo caso. Per il buon esito dell'import da STD, è fondamentale che il file da importare, contenga il codice fiscale, di ogni soggetto obbligato. Questo dato, associato al codice fiscale, presente nella navgrafica dell'azienda, permetterà di associare correttamente ciascuna delega, con l'azienda debitrice. Da Gestione Paghe, puoi creare un file telematico, che ha lo stesso tracciato richiesto da Entratel. Salva questo file in un direttorio, e rinomina il file con la dicitura, richiesta da Passpartout, su, ovvero, F24, e, underscore, l'anno, underscore, il mese di scadenza della delega. Nell'azienda STD, entra nella funzione di import da Paghe e da file telematico, ed imposta a Sì, il parametro per importare i file telematici. Indica il percorso, in cui hai salvato il file prodotto da gestione Paghe, e conferma l'elaborazione. In alternativa, da Gestione Paghe puoi elaborare un semplice file di testo. Questo file non richiede di essere rinominato. Dalla funzione di import da Paghe e da file telematico, imposta a Sì, il parametro per importare gli F24 da Gestione Paghe. Anche in questo caso, indica il percorso, in cui hai salvato il file di testo e conferma l'elaborazione. Con entrambe le soluzioni, al termine dell'elaborazione. Nel report, puoi vedere le aziende per le quali è stato fatto l'import. Entrando nelle aziende, puoi visualizzare la delega generata, alla quale è stato attribuito il progressivo 90. Se invece da Gestione Paghe hai elaborato un file aziendale, lo dovrai importare nella singola azienda. Dalla funzione di generazione delega F24, crea un nuovo prospetto, indicandone i riferimenti, ed accedi alla funzione di import da Paghe o da telematico. Anche in questo caso, dovrai indicare che tipo di file devi importare ed il percorso in cui è salvato. La procedura permette di importare le parcelle generate da Gestione Paghe nella Generazione Parcelle di Business Pass. Tramite il programma Gestione Paghe, è necessario stampare in modalità definitiva la parcella, così da generare il file pagquote.txt che sarà utilizzato per l'import. Nella tabella Parametri, è presente il parametro Import Paghe, attivandolo si potrà importare il file delle parcelle generato dal programma Gestione Paghe. In fase di generazione delle parcelle è presente il parametro Elabora Paghe, che deve essere impostato ad esse. Nel parametro Nome, File, Import Paghe, è necessario inserire la directory in cui è stato salvato il file pagquote.txt generato da Paghe e il nome del file. Se viene abilitato anche il parametro Forza Import, il programma genera documenti anche per eventuali prestazioni precedentemente importate. Nella sezione Documento da emettere, occorre inserire la sigla del documento che si vuole generare, la data del documento, eventualmente il pagamento, e se l'elaborazione verrà eseguita in prova, quindi generando solo la stampa dei documenti emessi, oppure in definitivo, cioè con generazione del documento nel modulo Parcelle. Prima di eseguire l'import del file è necessario correlare le prestazioni presenti nel programma Gestione Paghe, tramite apposito pulsante. Utilizzando il pulsante Inserisci si deve digitare nel campo Causale e Sottocausale, il codice della prestazione presente sul programma Paghe, e nel campo Prestazione è necessario indicare il codice della prestazione presente in Passpartout. È possibile inserire anche il codice di un cliente, se la correlazione la si vuole fare solo per un determinato soggetto. Per esempio. Se visualizziamo il file pagquote.txt generato da Paghe, vediamo, il codice azienda in gestione Paghe, il codice fiscale del cliente al quale viene emessa la parcella, la data di riferimento della parcella. I due campi successivi rappresentano il codice della causale e la sottocausale che dovremo correlare con le prestazioni di Passpartout. Successivamente troviamo la descrizione della prestazione, il mese di competenza, l'anno e l'importo. Nel file sono presenti anche altri dati che non verranno però considerati in fase di import. La prima riga presente nel file pagquote.txt è stata correlata in Passpartout, inserendo nel campo causale e sottocausale i codici della prestazione presenti nel file pagquote.txt, mentre, nel campo prestazione, è stata inserita la prestazione corrispondente in Passpartout. In questo caso, non è stato associato alcun codice cliente alla correlazione effettuata, quindi sarà valida per tutti. Confermando la maschera verrà generata la parcella, se l'elaborazione è definitiva, oppure solo la stampa, se l'elaborazione è di prova. Con il programma Gestione Paghe, elabori un file telematico, che contiene i dati per compilare il modello 770. Riferiti ai soggetti gestiti con questo programma, ovvero i collaboratori dello studio e delle aziende clienti, per le quali elabori le buste paga. Anche questo file può essere importato in Business Pass per completare la gestione del modello e il successivo invio. Se hai un file generato da altro programma, e vuoi importarlo nel modello 770 dell'azienda che hai aperto, copia tale file in un direttorio creato, ad esempio, modello 770, sul tuo disco C. Entra nel menu modello 770, contenuto faltelematico. Se devi importare un file di un 770, creato in un'altra azienda sempre gestita con Passpartout, indica nel primo campo, P. Imposta invece la, D, per indicare che vuoi importare un file presente in un direttorio creato sul tuo computer. Nel campo successivo indica se devi importare il modello semplificato, o ordinario. Se hai entrambi, puoi importare un file alla volta. Conferma. Indica il percorso dove hai copiato il file. Seleziona e scegli il rigo del file che vuoi importare. Digita, Import, e indica cosa vuoi importare. Conferma. Esci da questo menu e vai in Immissione Revisione del modello 770. Puoi verificare direttamente cosa è stato importato. In questo esempio sono stati importati dei dati delle certificazioni di lavoro dipendente e, alcuni movimenti nel quadro, ST, Addizionale e Regionale. In ogni rigo importato viene posta la barratura nel campo, Import Tele, evidenziando, che tale dato arriva da un import di file esterni.